che ha messo come foto? Riacosci insieme, riacosci insieme con Biancheroso di B Sport, dobbiamo correre anche perché a seguire c'è un grande spazio, uno speciale di Tele Bari perché avremo ospite in studio il procuratore capo di Bari Antonio Laudati che si soffermerà su alcuni temi caldi della giustizia ma anche della situazione in generale a Bari sul fronte dell'ordine pubblico, quindi da non perdere l'appuntamento in diretta ai nostri studi subito dopo il bianco e rosso TB Sport. Abbiamo già il giocatore che si nasconde, ma se lo fate inquadrare di lì lo indovino dopo un secondo, non fate quell'inquadratura che è micidiale, io l'ho già, tu l'hai azzeccato? No, 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 te lo stavo chiedendo, così già è più difficile, che è questo giocatore, un biglietto, vedo una maglia tutta rossa, infatti è abbastanza vecchio questo giocatore ma leggendario per il Bari, speriamo un biglietto da ritirare presso la tabaccheria Cataldo in via Bategimma, mi sta venendo qualche sospetto, mi sa che io l'ho visto, è facile, è facile, è facile, allora 080 501 9998, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Enzo, sono Gianni da Grumo. Ciao Gianni, ciao Carlo. Giochino? Sì, vai Giochino, è lo spazio del Giochino e basta questo. È un attaccante? Assolutamente sì. Pietro Magliallaro? No, non è Pietro Magliallaro, bisogna andare un po' più indietro, mi dispiace, grazie, grazie. Forse io l'ho trovato. Grazie, grazie, 080 501 9998, dobbiamo correre perché vorrei anche sentire Alberto Savarese che ci ha chiesto di poter parlare sulla questione della trasferta vietata ai tifosi del Bari non in possesso della tessera del tifoso. Io me l'aspettavo anche dopo i fatti di Diamantino, non tanto per i baresi in se stesso, anche per quello che può essere la provocazione di Leccesi in quell'occasione, quindi forse si è scelto questo tipo di linea così prudente, immagino. 080 501 9998, pronto? Nicola. Nicola, allora? Vai, chi è? Scarrone? Non è Scarrone, grazie Nicola, grazie. Chiudiamo e prendiamo un'altra telefonata. Sì, ma dai un riferimento, dai. Un riferimento, beh, è più indietro di Scarrone. Parliamo comunque di un giocatore rimasto leggendario nella storia del Bari, eh? No, no, io ho appena visto la maglia e ho capito chi era. Allora, quell'amaranto di un po' di tempo fa, diciamo. Pronto? Mattia Domeste sono, Enzo, ciao. Grande Mattia, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, ti premetto che io lo darò in beneficenza, poi vedi tu a chi? Sarà Lucio Mugliesan? Assolutamente sì, risposta esatta, risposta esatta. Ti abbraccio. Ma chi lo dai il biglietto? Puoi darlo a un tuo amico, mi dai un riferimento? No, 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 a un qualche ragazzino che ne ha bisogno. Grande, 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 complimenti per il tuo gesto. Grazie, grazie. Allora, Lucio Mugliesan, mitico centravanti del Bari. Ricordo bene. Mugliesan, diciamo, del Bari. Mugliesan, va bene. Abbiamo la possibilità di collegarci con Alberto Savarese, perché siamo quasi in chiusura della trasmissione, manca praticamente un minuto, minuto e mezzo, giusto il tempo di chiedere il punto di vista della curva rispetto a questa decisione, che anch'io in verità mi aspettavo. Toglie ovviamente un fascino anche al derby. Bisogna dire però che io mi sono trovato nel 2008, ero sulla via di Lecce e ho visto delle cose allucinanti, delle cose che non dovrebbero accadere, come dire, rispetto alla parte del calcio. Ripeto, poi quell'episodio di Lamutene è stato veramente inqualificabile, come definirlo. Indefinibile. Indefinibile. Pronto? 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 Sì, con chi parlo? Paolo. Paolo, ciao. Che è successo? Ma sono in diretta? Sei in diretta, vai. Ah, ok, però fai niente. Avevo chiamato per il giochino, solo che l'amico mi ha preceduto di qualche attimo... Sei stato bruciato, è il caso di lui. Sì, infatti, proprio a photo finish. Niente, visto che ci siamo, volevo invitare soltanto tutti i tifosi del Bari a recarsi in massa domenica e a tifare a più non posso, forza Bari, perché il momento non è cruciale, ma è molto di più. Di più. Grazie Paolo. Grazie anche per il tuo appello. Grazie per il tuo appello. Siamo quasi addirittura. Un bell'appello, ma devo dire anche una cosa, che bisogna dar merito alla piazza di Bari, che in un'occasione come questa, difficile, si sta comportando nel complesso veramente molto bene. È vicina alla squadra, non c'è particolare contestazione, quindi mi pare veramente che... Qualcuno ha parlato di tifo all'inglese, in effetti è un modello... No, no, è un tifo intelligente, nel senso che si stanno osservando le cose e si aspetta appunto l'evolversi dei fatti, come dovrebbe essere, insomma. Va bene, io non so se riusciamo a raggiungere telefonicamente Alberto, altrimenti dobbiamo chiudere, perché fra poco saranno i nostri studi il procuratore capo di Bari, il dottor laudati, quindi insomma uno spazio di grandissima qualità televisiva, un fatto anche di servizio che immagino possa interessare tantissimi baresi, quindi tra poco lasceremo il campo, come si vuol dire, al nostro prestigioso ospite. Te la senti di avventurato in un pronostico? No, 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 non mi avventuro veramente anche per scaramanzia a questo punto, diciamo che cerchiamo di rispettare il trend della statistica. Va bene, il trend della statistica. Abbiamo la telefonata o no? Pronto? Niente, niente da fare. Va bene, allora ci salutiamo. Ci salutiamo. Io faccio gli auguri a tutti quanti, speriamo di festeggiare bene questo Natale. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, avremo modo di farceli nei prossimi giorni. Grazie a Michele Antonucci. Forza a Bari. e poi il ricco dopo partita con le voci dei protagonisti e le vostre voci. Ciao, buon fine settimana. Grazie a tutti.